Buon pomeriggio, sono Mariano Scotto, l'assessore della cultura del comune di Bacoli. Ci troviamo a Pennata, riconoscete l'isoletta di Pennata, questo è il porto che ospitò la Classis Misrenensis, Miseno, e siamo a casa del nostro cittadino, concittadino, scultore Francesco, eccolo qua, che salutiamo, siamo a distanza, quindi io ho la mascherina e lui no, quindi può non tenerla, io ce l'ho, siamo all'aperto, perché siamo qui? Perché oggi la regione Campania ufficialmente, come dire, si prepara a Procida Capitale e noi ci stiamo preparando un bel po', in realtà Franco si è preparato, si sta preparando. Francesco, Francesco, hai ragione, hai ragione, io ti chiamo sempre Franco, ma il tuo nome è Francesco. Ok, vabbè, in confidenza sì, ma a pubblico. Assolutamente, e Francesco sta realizzando per il comune di Procida, come dono suo personale e del comune di Bacoli, in quanto lui artista bacolese, questo stemma con falone di Procida. Vedete che lavoro straordinario, in marmo, che esporremo poi a Bacoli e che successivamente sarà portato ed esposto a Procida, ci sarà un evento molto importante. Franco, che non sono un artista, ma un artista generoso, sono ormai mesi che ci lavora, ci lavora gratuitamente, ci lavora con il cuore. Ovviamente noi cercheremo di aiutare e di collaborare in minima parte alla realizzazione di questa opera importante, veramente importante, perché il marmo è il materiale per eccellenza, il materiale più durevole per le opere d'arte. Quindi Francesco ha voluto realizzare questa opera in marmo e quindi innanzitutto io come assessore, a nome dell'amministrazione, a nome dei bacolesi, ti ringrazio perché veramente sei una persona di una generosità, oltre che di un talento e di un'umiltà, perché non riesci, non sei sempre, come dire, modesto nel tuo essere, pur se hai un'arte così importante nelle mani. Quindi ti voglio ringraziare e ti cedo la parola per descrivere quest'opera che sta realizzando. Allora, in primis io tengo molto alla mia terra e questo mi emoziona, e quindi al di là di questo che devo superare immediatamente perché siamo in diretta, praticamente io amo non solo Bacoli, la mia terra, ma amo anche il mio popolo, cioè il popolo che io stesso faccio parte. Di conseguenza io perciò prima dicevo io mi chiamo Francesco perché Francesco disse certe parole, San Francesco, che adesso non mi metto a ripetere perché sono scritte, chiunque le vuole andare a leggere stanno là. Allora, io mi sono praticamente prodigato, diciamo con amore, con compassione, con l'anima più di tutto, a realizzare quest'opera. perché come tengo a Bacoli, tengo a Procida e tengo ai campi flegrei, alla terra flegrea di cui tutti noi facciamo parte. Di conseguenza deve essere un monito a spronare chi come me mastica un tantinello d'arte perché io non sono un artista, io sono un artigiano, non mi ritengo di essere un artista. qualcosa di più Franco. Io l'hai detto prima tu, Assessu, hai detto sono una persona umile e io tale voglio rimanere sempre. Sempre. E di conseguenza ho pensato e questa volta tengo a fare il nome di chi mi ha chiamato da Procida. Sì, certo. Tengo tanto Antonio Visaggio, che è una carissima persona che io ho conosciuto un anno e mezzo fa a Procida e non ci siamo mai più visti, avevamo solo un'amicizia su Facebook. Tramite Facebook sono stato contattato da lui a fare una rappresentazione di scultura a pubblico. Sì. Quartone o quant'altro. No, su marmo e gli elementi sono. Cioè la materia è, non gli elementi, perché gli elementi sono questi. La materia, diciamo, è quella che è stata lavorata. Certo. E si sta lavorando ancora. Parliamo di pietra lavica, pietra lavica, bucciardata, ok? Naturalmente la bucciardatura non l'ho fatta io. Questa lo voglio dire, sennò fai tutto tu. No, non faccio tutto io. Faccio fare pure qualcosa a qualcun altro. Pietra lavica e questo è bianco statuario. Non è un bianco carrara, semplice. E questo è statuario senza venature. Sì. Ok? È un marmo che si usava anticamente proprio per scolpire le statue. Non faccio i nomi, sennò peccherei di presunzione facendo qualche nome. Io non sono il tico. Assolutamente. È questo. Praticamente questi pezzi verranno innestati nella pietra lavica. I rami che simboleggiano la quercia, come spero si possa notare, sempre. E l'ulivo, che sono, diciamo, degli elementi, è un elemento... Piante tipiche mediterranee della nostra terra. Sì, della nostra terra. La corona che è presente più o meno in tutti gli stemmi, ognuno un po' diversa dall'altra, e questa fa parte di quella di Procida. Poi abbiamo le tre torri nello scudo. Le tre torri nello scudo stanno a simbolo... diciamo, sono proprio il simbolo della... dell'isola. Certo. Erano torri di avvistamento e di controllo. Esattamente. Erano torri di avvistamento. Che all'epoca, insomma, servivano proprio per evitare attacchi improvvisi e quant'altro. Mentre, allora, i due rami sono stati già innestati. Perché, essendo molto delicati da lavorare, ho preferito prima fermarli sulla pietra lavica innestandoli e poi successivamente eseguire il loro lavoro. Il lavoro che c'è e che continuerà ad esserci. Certo, certo. Perché è il lavoro in fase di realizzazione. Sì. Non è completo. Non è ancora completo. Certo. Tant'è vero sulla... Sulla fascia, se così la possiamo chiamare. Ecco... Non c'è scritto ancora niente. Ma sarà scritto il nome della nostra amata isola Flegrea. Procida. Procida, naturalmente. Certo. Con la data l'anno... Di quest'anno... Certo. Del 2022. Naturalmente, scritta a caratteri che... Romani. Sono già passati a caratteri romani. Certo. Ok? E quindi il tutto verrà innestato. Naturalmente non sarà incompleto di una cornice degna Certo. dell'opera che verrà ultimata. E di conseguenza il tutto sarà portato nella nostra bellissima isola Procida. E ci farei fare veramente una grande bella figura perché oggi realizzare un'opera del genere in marmo non solo è un lavoro difficile importante è un lavoro anche costoso che insomma mentre magari altri pensano per carità a materiali moderni contemporanei plastici sintetici resine che oramai hanno preso un po' il sopravvento noi qui invece parliamo ancora il linguaggio degli antichi romani dei greci Noi siamo abituati almeno noi quello che rimane delle persone che apprezzano la materia originale che compongono tra virgolette le strutture naturali monti e quant'altro delle nostre terre Certo. Ecco la pietra lavica del Vesuvio voglio dire della nostra vicina Napoli Certo Il bianco di Carrara è vero che è stata presa insomma a Carrara però comunque è una materia che gli antichi hanno sempre usato in tutte le parti del mondo del mondo tanto è vero che oggi gli emiri sono proprietari del 60% delle cave di Carrara proprio perché vanno ad estrarre il bianco statuario senza venature vogliono il bianco pulito E' quello adatto più adatto ecco ecco la rivalsa di una nazione che non è italiana prende materiali italiani li compra compra l'intero territorio e li estrae e li porta è un vanto per una parte è una perdita per un'altra perché ecco non ci sono più tante persone che sono declini a lavorare a lavorare questi materiali questi materiali perché posso fare una confidenza al pubblico visto che stiamo in diretta le mie mani eh sì sono parlano un po' sportarelle certo certo e questo è più che una scuola ecco la conoscenza della materia certo e quanta io vengo da un'antica scuola quella della muratura la scuola della muratura molti al limite si vergognano dice eh facevi il muratore no quella è una scuola vedi la scuola la dica ancora come si diceva una volta certo dove impari l'arte con le mani impari a conoscere la materia i materiali a manovrarla certo e quant'altro non è che è una cosa che che viene viene così dal nulla ci sono anni e anni di esperienza e non ho ancora imparato niente però intanto quello che ho imparato lo metto a disposizione della comunità quello che riesco a fare certo lo metto a disposizione dei dei miei del mio paese certo dei miei concittadini e naturalmente dell'amministrazione che è molto propensa a portare avanti un certo discorso di cultura certo certo ecco dalla da un'opera poi un domani si scriverà qualcosa che formerà altra cultura certo ma se ci fermiamo finisce tutto finisce pure la cultura penso noi ti ringraziamo per tutto questo questi sono i pezzi che ancora non hai innestato no questi sono ancora liberi ho segnato grossolanamente che poi verrà segnato in modo più corretto per darmi per dare un orientamento di distanza tra un pezzo e un altro certo per il principale innesto che è stato questo che anche esso ha bisogno di essere lavorato certo come tutto questo no questo è diciamo è finito ha bisogno eventualmente di una piccola levigatura ma secondo me già va bene così un lavoro straordinario possiamo vedere di particolari ripeto in marmo ma anche anche la profondità che che con un pezzo da 4 cm si riesce a notare la cosa è pure la profondità certo quindi torri vedete per esempio in questo punto qua vedi in questo punto qua io lavorerò questo punto creando un attimino il mare perché sotto le torri dello stemma di Procida c'è il mare qua allora io lavorerò questo punto prima di innestarlo naturalmente creando il mare perciò questo pezzo è molto più spesso rispetto perché questo è un insegnamento ma non che io voglio insegnare qualcosa a qualcuno se il marmo ce l'hai se la materia ce l'hai la puoi togliere se non ce l'hai scusate la schiettezza sei fottuto certo certo e vabbè è un lavoro importante c'è poco da fare Franco quello è allora si va praticamente man mano a decrescere 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 finché non si raggiunge poi il risultato il risultato che non c'è nella testa dentro certo nell'anima nell'anima e nel marmo come diceva Michelangelo certo perché nell'anima perché tu nell'anima già la vedi l'ho vera finita certo certo Michelangelo voglio dire ha dato un grande insegnamento in questa cosa come no ma solo per chi ha passione però e certo chi è e vabbè noi speriamo con questo anche di sollecitare la passione io lo spero tantissimo nei giovani tant'è vero io ci siamo dei ragazzi in futuro avrei qualche proposta a riguardo perché noi speriamo di accoglierla perché dei ragazzi potessero imparare quest'arte io lo spero vivamente perché comunque c'è tanto bisogno di riprendere un attimino ma non le cose vecce perché le cose vecce sono più belle non le cose vecce perché noi veniamo dalle cose vecce perché gli insegnamenti vengono dati dalle cose vecce c'è una solidità c'è una solidità in tutto questo questa opera durerà centinaia di anni ma parliamoci che gli antichi romani quando costruivano ok non detto da me certo detto da un luminare della scienza dell'archeologia ok praticamente davano una garanzia di 80 anni per ogni manufatto una garanzia a modo loro ai tempi loro naturalmente di 80 anni sono passati 2000 2000 e qualche giorno in più e ancora ci sono le loro opere hanno visto terremoti vulcani scoppiare terre e scendere sotto il mare noi abbiamo qui nel nostro nel nostro territorio qui davanti c'era il porto dell'antica miseno eh certo con tutto ciò che c'è sotto questa quella barca a vella un po' più a dritta parlo in termini marinareschi ci sono le piane le piane sono i resti di antiche banchine romane dell'antico porto è una fortuna vivere qua è una fortuna ci sono capitato non è diciamo e quindi voglio dire tutto questo dovrebbe dare un insegnamento alle anime di ognuno di noi e speriamo che anche questo lavoro franco sperolivamente noi ti continuiamo a ringraziare ti auguriamo buon lavoro io io mi permetti io devo ringraziare voi perché no ci tengo a dicere scusate la mia cadenza del mio posto nativo che è bellissima tra virgolette come no io ci tengo che voglio dire mi sono perso un attimo e anche questo va nella diretta certo perché sto emozionato ma forse perché stiamo stiamo cercando di valorizzare le eccellenze bacolesi come te molto semplice ma l'eccellenza sei tu che io voglio ringraziare ecco mi sono ripreso ringrazio anche voi amministrazione perché date un attimino l'input pure è quello importante certo di fare in modo che certe cose si possino verificare certo certo ok quello è il discorso a me non mi piace affaticare perché ho fatto vedere prima le mani e non mi ripeto certo e questi sono anni anni e anni e anni anni e anni di umidità di lavoro duro di martellate e mazzolate sulle mani quant'anni quindi vabbè franco grazie mille noi poi vedremo l'opera completa sicuramente io stavo di sì no sicuramente sposta prima siamo sempre sotto al cielo di salvatore ecco si vede si vede e quindi prima è sposta a Bacoli e poi la porteremo diciamo come dono come amministrazione tu come artista e noi con te come orgogliosi di questo cittadino bacolese approcita in primavera quindi se fossi stato una classica persona così non avrei detto niente certo l'avresti fatto e me l'avrei fatta da solo la cosa certo e vorrei dare un monito a tutti coloro che masticano un po' di artigianato come lo mastico io secondo me è bello promuovere la propria terra certo certo portarla un attimino sull'aereo su un treno su un motoscafo voglio dire eh già e noi ti ringraziamo per questo Franco veramente io ringrazio di noi grazie e complimenti grazie a voi ecco qua ci lasciamo in questo bel paesaggio di ah miseno l'ultima cosa questa è la dima è una della parte della dima con cui ho realizzato sto realizzando perfetto perfetto guarda la incorniciamo proprio esatto pennata ecco qua ecco se la allontano un po' così l'inquadratura viene perfetto grazie mille Franco grazie a voi ancora ecco e grazie a Procida grazie a tutti